Si temeva la paralisi, invece il portale ha funzionato regolarmente. Il servizio ispettorato del lavoro, presentando le credenziali Spida, ha così iniziato ad accogliere le domande delle aziende del settore casa che devono attivare la patente a crediti entro ottobre. Una patente che certifica le imprese edili per la sicurezza sul lavoro, ma per evitare caos nel click day, è stata autorizzata l'apertura della pratica via PEC dal 30 settembre per le imprese un ulteriore grosso impegno burocratico. Appesantisce un po' il lavoro degli artigiani, delle aziende che devono applicare questa norma e essendo che il portale è arrivato proprio oggi, primo ottobre, non si sa mai se si è a posto, se saremo a posto nei prossimi giorni. Per le imprese più strutturate sarà tutto più facile. Chi invece magari, l'artigiano un po' più piccolo, che non è attrezzato, non ha dipendenti magari, o si muove con un socio, che hanno trascurato questi ambiti, in questo momento sono in grande difficoltà. C'è poi la questione dei controlli, se un'impresa non richiede la patente non sarà facile fare verifiche e comunque solo attraverso l'aumento dei controlli si potrà davvero combattere il fenomeno, sostiene la CGA di Mestre. È anche difficile fare controlli, però alla fine, siccome è digitale, si vede subito dal punteggio che uno ha a che livello è. E quindi questo rating aziendale che viene visibile al pubblico, a tutti, quindi perché quando si fa la ricerca si trova, è un elemento distintivo che aiuta anche la scelta del professionista o del cliente. Di certo è l'amara considerazione di molti imprenditori, la pubblica amministrazione fa ricadere ancora una volta sulle imprese documenti, autosertificazioni e adempimenti, insomma, ancora una volta a vincere è la burocrazia. Grazie a tutti.